Buongiorno E siccome da un periodo a questa parte, anche da qualche anno a questa parte si parla di super 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 Ecco accontentati, super lezioni oggi a Camigliatello con Calabria Snow Academy con la scuola SCI Camigliatello Quindi non perdetevi questa lunga domenica di carnevale sulla splendida neve di Camigliatello, seguiteci Buongiorno 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 una super lezione con claudia pochissimo tempo insieme già si passa sulla tapirulana andiamo al campo scuola iniziamo a fare le cose serie anche se oggi oggi di serio c'è ben poco per bailar la bamba per bailar la bamba se necesita una poca desgraccia una poca desgraccia pa mi patilla e arriva a y arriva爷 arriva e arriva poti sere poti sare poti sere io loi in marinero sono suy capitane suy capitane bambi, 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 bambi Bambi, bambi, bambi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una super lezione per dei super allievi sulla pista a Cavigliatello-Silano con Calabria Snow Academy. Noi dalla scuola Scicamigliatello continuiamo anche in questo primo weekend di marzo con la nevicata di questi ultimi giorni. E come da qualche periodo a questa parte dico, vivete la vita come un fumetto, sorridete sempre. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti